Allora riprendiamo un po' il punto della situazione, mi informavo come funzionano i lavori della consulta perché sono veramente tantissime parti chiamate e interpellate, però farmi un intervento rapido mi diceva il Presidente Ciambetti, perché prossima settimana la porta... Sì sì, ma soprattutto lasciano normalmente una documentazione allegata all'audizione che è di sostanza, cioè veramente anche cose molto molto interessanti depositate ieri e oggi. Eh vabbè, interpelleremo le parti convocate per entrare a sbirciare un po' cosa hanno richiesto. Con lei, Dottor Pontelli, come la vede questa situazione, la fattibilità? Poi quello che interessa tanto anche i cittadini come sempre è l'aspetto fiscale perché con i soldi si fanno le cose, senza i soldi, ho capito, puoi delegare quante competenze vuoi, però c'è questo qui, questo punto di domanda non chiarito. Ma il fatto che non sia chiarito il sistema fiscale e la prospettiva fiscale fa parte del gioco. Se vai ad una trattativa, Zaia parla dei nove decimi, Costa, che è consulente di Brescia, dice che è impossibile, per cui è evidente, noi vogliamo 23 competenze, no, non ve le daremo mai, quello fa parte del gioco delle parti. A me è quello che francamente fa un po' paura, io sono assolutamente favorevole, ci mancherebbe altro ad una maggiore autonomia del Veneto. Tuttavia, quello che mi fa paura è che io non sento parlare di modello economico, io non sento parlare di modello di sviluppo. Faccio un piccolo esempio. Noi siamo ancora con un modello aziendale che è tutto quanto fissato sull'out-searching. Nei paesi più avanzati si parla di in-searching, del resto, un caso che è avvenuto a Longarone un mese fa, il gruppo Louis Vuitton, l'Ambè, ha comprato il gruppo Marcolin. Questo cosa vuol dire? Stiamo passando dal controllo dei costi all'integrazione di filiera. Questo è un modello che in regione non se lo sono mai posto, perché i loro interlocutori non lo sanno neanche. Perché questa è la tristezza. Io dico questo, mi va benissimo le competenze, ma soprattutto mi devono dire qual è il nostro programma di sviluppo economico per le nostre imprese. Perché non dobbiamo dimenticarci che esiste appunto Porto Marghera, che ci sono... Porto Marghera non è che sia in crisi perché il mercato è globale o perché i politici... ma perché abbiamo fatto degli errori strategici incredibili e la domanda che io pongo adesso... Quali competenze in più può dare la regione, soprattutto a livello di fattore umano, quello che nelle aziende viene chiamato l'HICER, cioè le risorse umane che lo Stato, che è appurato, non ha saputo dare, può dare in più alla regione Veneto. Questo è il problema, perché il mercato non sta ad aspettare noi le consulte. Il mercato sta già correndo verso traguardi che noi, già noi che le leggiamo tutti i giorni, non ci possiamo neanche immaginare. Per cui quello che è importante è capire qual è il modello economico di sviluppo. Come faremo a crescere? Al di là del fatto che sono d'accordissimo, è giusto che le certe competenze vadano nei giudizi di pace per snellire la giustizia civile. Le dici in una visione più aperta, più legata a... Manca una visione economica. Ma questo manca anche a livello nazionale, intendiamoci. Ma proprio perché noi vorremmo essere diversi rispetto alla mediocrità nazionale, manca una visione nazionale. Perfetto. Dopo le faccio rispondere a lei, dottor Amundo. Sì, è perfettamente d'accordo sulla consultazione referendaria. Sicuramente se fosse stata posta la domanda volete più autonomia fiscale, volete pagare soltanto il 20% di tasse e l'80% mandando a Roma sarebbe arrivato il 100%. Questo per dare così contezza della... che comunque voglio dire già quasi il 60% rispetto a tanti altri referendum e anche partecipazioni popolari come l'ultima tornata in Sicilia stanno a dimostrare che c'è stata una volontà da parte del popolo veneto di partecipare e dire la propria in senso positivo. Quello che a me preoccupa, oltre che quello che diceva il collega, è proprio l'aspetto fiscale. Io sto venendo da un'ordione dove, anche stamattina i giornali hanno riportato alcune mie interviste, dove siamo massicciamente pressati dalla macchina fiscale. Questo è il novembre nero, non perché ci sono i molti, ma perché ci sono le tasse da pagare. Soltanto appado, io ho fatto un calcolo, c'è un miliardo da pagare di tasse e ci sono scadenze che arrivano una dietro l'altra. Capisco che la questione fiscale, secondo la Costituzione, può essere naturalmente portata come materia di... Però uno sforzo bisogna farlo, perché le nostre imprese, noi vediamo da attività imprenditoriali che sono ormai allo stremo, non ce la fanno più, devono andarsi a indebitare per pagare le tasse. Lei è anche dottore commercialista per cui ci maneggia ogni giorno. Sì, al di là della mia professione, insomma, io come Presidente dell'Osservatorio vedo ogni giorno cartelle esattoriali, gente che non ce ne fa più. Adesso per esempio stanno ridando degli avvisi bonari che non si capisce bene da chi vengono, per quale motivo vengono, meglio, si sa da dove vengono, però magari si tratta di cose già passate. Si prevede un'altra rotta nazione bis, che significa che lo Stato vuole ancora di più incassare, perché evidentemente i 20 miliardi che si prevede di maggiori spese, che dovrebbero essere affrontate col bilancio adesso in Parlamento, dovrebbero, la legge finanziaria, dovrebbero essere in qualche modo riassorbite. Però nessuno parla che ci sono più di 30 miliardi di sprechi. Dove rimettiamo? Burocrazia, la Guardia di Finanza ha fatto nel suo report, poco tempo fa, 6-7 miliardi soltanto di malversazioni, di truffe anche all'interno della macchina burocratica statale. Allora, forse un motivo per iniziare a parlare di questi argomenti, perché altrimenti, ripeto, diventa sicuramente importante parlare di 26 materie, però io penso che il popolo veneto, comunque, proprio perché è a quasi distanza vicina con il Trentino, cioè c'è chi, per esempio, un'impresa a 500 metri da Friuli o dal Trentino, ha meno agevolazioni e meno provvidenze fiscali rispetto ad altri, allora non si capisce bene perché questa disparità. E ripeto, questo poi si riverberà sull'economia, non si creano posti di lavoro, la gente scappa via, naturalmente ogni giorno vediamo chi va di nuovo in Croazia, chi va in Cina, chi va in... cioè stanno parendo un po' tante piccole anche realtà artigiane, imprenditoriali venete, sulle quali appunto ci vorrebbe un punto di riferimento e anche il Presidente della Regione dovrebbe iniziare a mettere un po' i puni sul tavolo e dire no, non possiamo perdere quella che è stata anche la storia di questa Regione, no? Quindi trovare dei modi per dare... Dei modi, ripeto, capisco che la questione fiscale è, come dire, una materia combustibile, cioè appena si apre una miccia che non finisce più, però iniziare a parlarne in maniera forte e sicura, sì, perché, ripeto, le imprese non ce la fanno più. E poi, mi riallaccio a quello che diceva prima lui, manca un quadro economico di riferimento, ma soprattutto dove vogliamo portare l'economia del Veneto, perché qui, ripeto, di artigiani, di imprenditori veneti ne rimarranno ben pochi se non mettiamo subito mano alla politica economica di questa Regione. Questa è una realtà, basta andare in giro, cinesi, russi, indiani stanno comprando un po' tutto. Ecco, questo è l'esempio. La Nohacker ha raddoppiato il porto stabilimento a Bolzano, l'ha messo a confine con l'Austria, ha aspettato sei mesi. A Verona, mi sembra che Polo Arena, ha aspettato due anni per fare lo stabilimento per il pollo congelato, che è un master in Europa. Questa è la differenza. E non facciamo altri nomi, perché ce ne stanno venendo in mente anche molti. Esatto. Allora, Presidente Ciamvetti, rispondendo un po' a Polo Uno o a Polo L'Altre, poi a Patrice Bisinella. Mi permetto intanto sui numeri. Dei residenti in Veneto ha votato il 62,5% e dei residenti in Veneto il 61% ha detto sì. Adesso questi dati li sto elaborando meglio, perché abbiamo come Consiglio dell'Osservatorio elettorale, ho chiesto a Viminale i dati dell'Aire, per fare chiarezza anche sui numeri, perché i 330 mila iscritti all'estero, che non potevano fisicamente votare, e comunque vanno tenuti in considerazione nei numeri del referendum. Sulle competenze, il tema della fiscalità non può essere messo a referendum proprio per Costituzione. Però la diciassettesima competenza che andremo a trattare è il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Cosa vuol dire questo? Che potremmo, se abbiamo dall'altra parte una controparte, ripeto, lungimirante e aperta, potremmo sia nei bilanci delle pubbliche amministrazioni, ma anche nel sistema tributario, quindi le tasse, avere una competenza e gestione piena della cosa. Perché questo è previsto in Costituzione ed è previsto e noi andremo a chiederlo, poi sarà e capiremo da parte del MEF, se questa cosa sarà fra le competenze che ci permetteranno di gestire. Perché abbiamo anche qui la presunzione di riuscire a semplificare un po' il sistema e magari far pagare in maniera meno difficile le tasse ai cittadini e alle imprese. Sul lavoro e sulla vision, magari potremmo farlo meglio rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, anche se mi pare che la situazione del Veneto non sia poi così male in questo momento, i prossimi dati della trimestrale saranno dati interessanti, quelli che arriveranno dal Veneto e anche da Lombardia ed Emilia. Però andremo a chiedere competenze complete sulla formazione, istruzione e formazione, quindi riuscire a fare le scuole sempre più adatte alle esigenze del nostro mondo produttivo e non aspettare che mi arriva un funzionario da Roma per dettarci i programmi della nostra scuola. Le professioni che attualmente hanno una gestione non chiara fra governo centrale e territorio, quindi le professioni potranno essere gestite completamente a livello regionale. Ricerca scientifica tecnologica e a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi. Anche questa è una competenza che possiamo chiedere in maniera completa al governo. Quindi ci sono delle cose sulle quali, messe assieme e riuscire a scrivere un piano di sviluppo strategico della regione con queste competenze, è una cosa sicuramente ambiziosa, ma che potremmo fare in maniera più puntuale e precisa se queste cose riusciamo ad averle sotto controllo direttamente noi. Su Porto Marghera avere in questo momento il Ministero dell'Ambiente, il Ministero di Attività Produttive, noi, Città Metropolitana, tutti quanti, sicuramente persone anche animate da buona volontà, ma che tutti quanti devono avere passaggi interni, verifiche interne prima di produrre qualcosa, potevamo magari risparmiare qualche mese, qualche anno rispetto a scelte che si possono fare su Porto Marghera e che magari è difficile fare in questo momento. Anche la competenza, sentivo oggi qualcuno che criticava la competenza sulle grandi reti di trasporto, navigazione, porti, aeroporti, sicuramente la sinergia va fatta a livello, dico europeo, non solo nazionale. Già adesso Tessera è utilizzato da buona parte di sloveni, croati e anche austriaci che vengono a prendere l'aereo qui perché è più comodo che andare a Vienna o a Zagabria, però, ripeto, sempre in un contesto sicuramente di verifica nazionale e internazionale, poter fare qualcosina in più, l'aeroporto di Venezia per fare i lavori che hanno inaugurato qualche mese fa ha aspettato 7 anni per avere l'autorizzazione da ENAC, con soldi propri, queste cose, ripeto, abbiamo la presunzione se le facciamo noi di riuscire a farle un pochettino meglio di qualche funzionario romano. Senatrice, rispondendo all'obiezione dei due esperti di economia, che cosa può dire? Io mi trovo assolutamente d'accordo con quanto i professionisti hanno indicato perché è vero che sperando che questa trattativa vada a buon fine, che non rimanga la classica occasione persa, io me lo auguro, e nei tempi più veloci possibili, si potrebbe certamente in Veneto gestire meglio alcuni settori sburocratizzando molto e anche riuscendo in qualche modo a favorire uno sviluppo che certamente nel nord del nostro paese, ma in generale in Veneto, che guarda sicuramente all'Europa in un contesto in cui parliamo di economia globalizzata, quindi certamente è una concorrenza che non è più soltanto ai confini, ma è una concorrenza mondiale, però il timore sinceramente è un dato oggettivo. Questa trattativa con lo Stato centrale, innanzitutto, io l'ho detto anche durante la campagna referendaria, perché è una cosa che va detta e me ne dispiace molto, poteva partire ben otto anni fa quando Zaia e la Giunta si sono insediati alla guida della Regione, perché in base alla Costituzione lo si poteva già fare, magari con un referendum, ma lo si poteva fare ben molto tempo fa. Non vorrei che l'unica mission della Giunta regionale, della Regione Veneto a guida Zaia in tutti i dieci anni di legislatura sia solo questo, perché nel mentre la Regione ben poteva fare e anche ora ben potrebbe fare in più per il rilancio del settore dell'impresa, del settore del mercato del lavoro, della politica agricola, cioè a me pare che una strategia d'insieme, al di là, è vero, dei problemi che il Governo centrale pone, che sono indiscutibili, ma certamente una mancanza o una estrema lentezza di strategia politica frutto di scelte politiche regionali precise in questi settori non si è vista, anche proprio se guardiamo il tema della politica agricola, politica del lavoro, politica industriale e poi anche dei settori strategici che sono quelli delle infrastrutture, ricordo il caso Pedemontana, poi anche otteniamo sì maggiore autonomia, magari abbiamo la possibilità di gestirci più materie, più competenze, ma attenzione a non ricadere negli errori che purtroppo anche in Veneto sono occorsi per responsabilità di classe politica, parliamo del caso Mose per esempio, che è eclatante, non vorrei che anche avere maggiore autonomia ma non avere capacità, serietà, onestà e trasparenza poi nel gestire le cose, non ci porti a rifare quegli errori anche da noi, non siamo immuni, ecco quindi attenzione, per finire sul tema delle competenze e la materia fiscale, allora da Costituzione non è possibile, noi dobbiamo muoverci nella trattativa, nell'alvio della legittimità costituzionale e quando si chiedono maggiori competenze lo Stato te le trasferisce e ti trasferisce le risorse necessarie a poter esercitare quelle maggiori competenze, non è che ti dà risorse in più, ecco questo è un dato sul quale fare molta attenzione per dire che non è e non sarà mai possibile per noi veneti trattenerci un nove decimo, insomma la gran parte delle risorse al pari di quanto fanno Trento-Bolzano o che arriveremo mai ad avere lo Stato speciale. Il tema del coordinamento certamente è fondamentale, questo condivido, io se fossi, potessi in qualche modo agevolare questa trattativa direi e consiglierei alla consulta e alla Regione Veneto di partire soprattutto da quella materia con altre 4 e 5 perché è quello il fulcro, il punto di tutto, per poter noi nell'ambito del bilancio nazionale avere la possibilità di dire la nostra sulle nostre risorse, su quanto ci deve tornare indietro. Presidente Ciambetti a fare un'osservazione e poi il professor Bolide. Devo dissentire in maniera un attimo limitata con Patrizia. Dopo voi fate le osservazioni perché non... Allora, prima Patrizia l'aveva spiegato benissimo, nel 2009 viene votata la legge numero 42, legge delega per fare il federalismo fiscale e i costi standard, una cosa che avrebbe sistemato l'Italia. Io, venivo io in conferenza a Stato Regioni, partecipavo, io partecipavo a quel tavolo che era molto più ambizioso rispetto a quello che abbiamo fatto adesso. Noi utilizziamo gli strumenti che abbiamo. Condivido, ricordo che facciamo parte di quel tavolo come tecnica in quella fase. L'ho ricordato all'inizio del mio intervento, ho detto peccato che fu appossato. Nel 2010 l'obiettivo era molto più ampio rispetto a questo, per quello non si andava a utilizzare questo strumento. Perché è entrato il governo Monti, c'erano 10 decreti pronti, ha approvato il decreto a Roma Capitale e tutti gli altri ce l'ha dimenticato. Legge delega scaduta nel novembre 2014 nel silenzio totale, a parte qualche mio articolo. Mi permetto precisazione, Mose è una legge nazionale. Noi siamo stati estromessi come regione dal procedimento perché l'avvocatura ci dice che non centriamo nulla. Nel comitatone ci sono 30 persone, 3 venete, 27 di emanazioni dei ministeri. Non prendiamoci le colpe che quando noi le abbiamo. Chi ha sbagliato paga, chi ha sbagliato paga. Io ho detto che però c'era gran parte della classe politica e purtroppo le indagini della magistratura hanno confermato, coinvolta, parliamo della vicenda banca, non è colpa della regione, ma nella vicenda di Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza, gran parte della responsabilità della politica, anche della politica veneta e della dirigenza veneta c'è. Della politica veneta, io non ho mai visto Zonin ai miei banchetti, li ho visti ai banchetti di qualche altro partito, però sta emergendo dalla Commissione nazionale appunto la mancata vigilanza di Banca Italia che sapeva dove intervenire. Pede Montana fino al 31 dicembre 2016 il commissario ha di nomina governativa, da primo gennaio abbiamo totalmente noi, la stiamo risolvendo perché con le patate diciamo bollenti il governo ha preferito scaricare. Si parla prima di materie da trasferire eccetera, io da anni che mi sto battendo per la giustizia tributaria, perché questo è un problema veramente formidabile per la regione Veneto, ricordo, magari molti non mi riconosceranno, sono stato il primo in Italia a essere nominato garante del contribuente per la provincia di Padua. Dopodiché il Ministero delle Finanze che era a Tremonti vide bene di farlo a livello nazionale, dice no non può essere la regione Veneto e una provincia a nominare un garante del contribuente, che facciamo? Lo facciamo a livello nazionale, ecco qua il burocrate che trasferisce sul piano regionale tutta una serie di burocrazie, infatti non funziona il garante del contribuente e tutti quelli che vanno in qualche modo a bussare. Per dire, queste piccole esperienze fatte 10-15 anni fa sono state lasciate lì, erano esperienze bellissime che oggi avrebbero portato sicuramente ad altri risultati, per cui dico anche sulla giustizia tributaria, se noi riuscissimo ad avere delle commissioni che fossero per esempio Venete, dove effettivamente dice tu mi hai mandato un'iscrizione al ruolo di IRPEF, IRES eccetera, ma non esiste perché magari hai dei presupposti diversi sia per la localizzazione sia per altro, probabilmente avresti a che fare con una situazione burocratica diversa e non quella di oggi, dove vedi processioni di contribuenti che non sanno dove sbattere la testa tra commercialisti, avvocati, giudici, con spese inenarrabili, perché io voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che per poter fare un ricorso in commissione bisogna subito pagare il 30% di quella che è la somma che in qualche modo ti intimano di pagare, e questo è assurdo, cioè io ancora non so se vinco, se perdo eccetera, ti devo già anticipare il 30%, su questo nessun politico, mi dispiace dirlo, ha alzato la voce o ha fatto qualcosa nei confronti dei contribuenti e continuano a dover pagare queste gabbelle prima ancora che un procedimento sia concluso, forse l'ordine commercialista credo che sia rappresentato in consulta, se non lo sai, di consulta io ne conosco tanti, però cerchiamo di prendere anche persone pratiche, persone che vivono sul territorio, che viviamo i presidenti, però a volte sono vuzzi dalla realtà, mi dispiace dirlo, in qualsiasi ordine. Professore, lo dico anche in sede nazionale, non solo rispetto a questa trattativa che la regione deve fare, ma a livello nazionale proprio nella legge di bilancio vengono uditi. Adesso lo tiriamo fuori, professor Moride. È un tema purtroppo noto. Noi ci spieghiamo in un processo autonomico della regione quantomeno qualità, servizi e velocità, questo sicuramente, però da qui la domanda che io mi pongo come capogruppo provinciale, l'attuale governo regionale ha dimostrato ed è in grado di saper gestire questa autonomia, questo è il mio crucio, sebbene io abbia una simpatia, una stima anche per il presidente, non lo nascondo assolutamente, io devo dare ragione anche alla senatrice, cioè in Veneto in questi anni sono accorsi una serie di eventi, fronte ai quali francamente mi sembra impossibile che la Lega in un qualche modo, che il governo della regione insomma non sia potuto in qualche modo intervenire o non vedere quello che si stava svolgendo. Effettivamente non era di competenza il Mose regionale, vediamo la Pedemontana, vediamo le banche, ci sono un'infinità di dinamiche che sono accorse durante questi ultimi anni e francamente un minimo di responsabilità politica bisogna quantomeno riconoscerla. Poi per quanto riguarda anche, mi riferisco alla questione che aveva sottolineato, avevano sottolineato i tecnici, per quanto riguarda l'aiuto all'impresa e questo è vero, perché manca almeno ad oggi una visione di gestione, di rilancio e di tutela anche di quella che è l'imprenditoria nostra, anche da un punto di vista tributario. Però quello che io guardo, e guardo nel piccolo a Padova perché io mi occupo della mia provincia e della mia città. E però a livello esemplificativo, va bene, se poi gli industriali si uniranno con Treviso, Senza ombra di dubbio, però vede, io parlo anche da un processo di concorrenza leale. Noi abbiamo a Padova una delle tre capitali del triangolo d'oro, così chiamato, cinese. Ecco, nulla è stato fatto nei confronti di questo, consentitemi la parola scempio, è un argomento sul quale io ho lavorato per anni e che conosco abbastanza bene. Nessun amministratore locale, nessun amministratore regionale mai intervenuto a tutelare quello che sta avvenendo in corso Stati Uniti a Padova, ovvero abbiamo dei grandi magazzini che di fatto anche commerciano. Legalmente, illegalmente, la Guardia di Finanza annualmente richiede e sancisce quasi 8 milioni di IVA non pagata. Quindi abbiamo una concorrenza che è del tutto sleale. Gli amministratori politici, ecco perché mi vedo d'accordo con la senatrice, c'è una responsabilità politica, deve esserci una vigilanza. È chiaro che non è il politico coinvolto direttamente, ma il ruolo del politico è quello di creare le condizioni per cui determinate dinamiche non hanno luogo. Allora, a livello regionale, è possibile che la Lega sia stata estranea o non abbia visto, non abbia intervenuto, non abbia in qualche modo cercato di arginare determinate frane che hanno caratterizzato anche a livello nazionale un forte imbarazzo? Deve rispondere Ciambetti. Allora, sul problema del corso Stati Uniti, dei cinesi, con questo grande hub di distribuzione, abbiamo fatto iniziative anche di carattere urbanistico. Il problema è che la direttiva Bolkestein a livello europeo non ci permette di fare iniziative restrittive per il commercio. Mentre facciamo intervenire lo Spisal, facciamo intervenire gli organi di nostra competenza per verificare e sanzionare quelle attività che normalmente ogni 3-4 mesi cambiano... L'organe sociale... Sì, o appunto viene messa una testa di legno che neanche sa di essere in Italia, sinceramente, e quindi è anche difficile riuscire a sanzionare e trovare effettivamente i veri capi bastone di questa situazione. Sì, è un problema non semplice, non facile, poi quando ce ne siamo occupati siamo anche stati tracciati di razzismo, come sempre capita. Però appunto è una situazione di un'attività commerciale, barra anche produttiva per certi versi, perché avvengono anche certi cicli di lavorazione all'interno per certi prodotti che non è sicuramente un'attività normale. avere qualche competenza in più appunto magari sul commercio potrebbe anche permetterci magari qualcosa di diverso rispetto a quello che facciamo attualmente. Quindi non ci sono ancora le competenze. Allora, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo e vediamo di affrontare anche la questione della legge finanziaria, di bilancio nazionale, che in qualche modo si va anche a innescare in questi meccanismi. Tra poco. Grazie. Grazie.